di come si agisce. Ovviamente la comunicazione deve essere una comunicazione raffinata, dobbiamo saper sviluppare sicuramente empatia per capire che abbiamo davanti, per poter governare la situazione, per poter governare il tutto al meglio. Dobbiamo essere flessibili, perché essere flessibili è molto importante, è fondamentale per poter ovviamente ottenere dei risultati, raggiungere dei risultati. Questa è una condizione che dobbiamo imparare a fare. Quindi, prima cosa, ripeto, è quella di creare un problema. Ma non è neanche creare un problema ex novo, andare semplicemente attraverso il dialogo, in modo indiretto, ad amplificare problemi già presenti all'interno della persona. Qualcosa che, amplificato, impedisce di avere serenità. Quindi, creare apposta dei problemi si può fare magari esprimendo qualche critica, facendo osservazioni in momenti specifici, ascoltando quello che la persona dice, perché naturalmente le persone poi tendono in qualche modo a parlare, insomma, di quelle che sono le situazioni critiche, di quelle che sono le situazioni problematiche. E allora il manipolatore, diciamo, ad hoc, amplifica queste situazioni. Ovviamente, creare una situazione, diciamo, di un certo tipo è importante per, diciamo, ottenere dei risultati. Ovviamente, una volta che hai creato un problema, devi osservare la reazione che ha la persona, perché serve un po' una calibrazione. Hai mosso la tua pedina, hai amplificato il problema, ora devi aspettare la reazione, tra virgolette, della vittima, vedere cosa fa, perché questo è importante. Potrebbe entrare in uno stato prima di proporre la soluzione, perché noi dobbiamo sempre avere un feedback, vedere il tipo di reazione che ha la persona, se è una reazione magari di un certo tipo, piuttosto che di un altro tipo, osservare il tipo di reazione che ha. Ovviamente bisogna trovare una reazione in cui si manifesti una sorta di paura, si manifesta una sorta di ansia, difficoltà. Questo è l'obiettivo dell'avere amplificato. E poi, la terza fase, la terza parte, è quella della soluzione. La soluzione è quella che spingerà la persona a fare quello che tu vuoi che faccia, che proporrai, diciamo, anche qua abilmente, come soluzione del problema. Quindi la triade è problema, reazione, soluzione. Bene, per questo video è tutto, quindi iscriviti al mio canale, a tutti i canali, il canale Massimo Terramasco, sul canale Massimo Terramasco, potrai, diciamo, anche abbonarti, oltre l'iscrizione gratuita.